Il PDTA in chirurgia ha rivesto un'importanza fondamentale soprattutto per quel che riguarda la presa in carico del paziente dal territorio e verso il territorio. Pensare al PDTA chirurgico soltanto internamente all'ospedale per la maggior parte delle patologie potrebbe essere un'ottica fortemente limitata. Pensiamo ad esempio al PDTA del cancro del colon che proprio all'interno della mia azienda stiamo sperimentando come percorso di continuità con il medico di medicina generale attraverso una presa in carico precoce laddove per esempio emergono problematiche in sede di prevenzione secondaria. Noi prendiamo in carico il paziente quando all'esito dell'ulteriore analisi diagnostica purtroppo viene evidenziato un cancro in realtà provvediamo ad inserirlo secondo il criterio di urgenza nelle liste d'attesa ma la cosa importante è che abbiamo stabilito un raccordo con il medico di medicina generale il quale segue il paziente addirittura può seguirlo ovviamente durante il decorso operatorio che peraltro è molto breve ma poi lo prendo in carico proprio perché operando una dimissione protetta dopo pochissimi giorni di degenza è importante che lo stesso medico di medicina generale si adoperi per conoscere tutte le tipologie sia cliniche che assistenziali che possono favorire una pronta guarigione. In cambio noi ovviamente formiamo concorsi ACM i medici di medicina generale i quali così hanno la possibilità di aumentare l'espertise rispetto a determinate patologie. Ecco, ho portato questo esempio proprio perché ritengo che la logica del PDTA che è una logica per processi, che è una logica di presa in carico, che è una logica multidisciplinare necessariamente con le problematiche odierne della sanità italiana che ha problemi da un lato di sostenibilità da un'altra parte di avanzata età della popolazione debba necessariamente coinvolgere nei propri percorsi non solo i percorsi intra ospedalieri ma soprattutto i percorsi extra ospedalieri. Portiamo un altro esempio per esempio nel caso in cui si formino ulcere con il paziente quanto sia importante prolungare il percorso chirurgico anche in sede post chirurgica per le vac, quindi per eliminare diciamo problematiche collegate a dulcere difficili da curare e che però curarle in ospedale significerebbe in realtà allungare di molto l'adegenza e quindi inibire l'ingresso di altri pazienti. Quindi ho portato due esempi per dire che non solo il PDTA è vincente ma in vincente tanto più riusciremo ad integrarlo con l'assistenza sul territorio.